Buongiorno a tutti, giovedì della diciottesima settimana, l'Idurgia ci offre un brano del Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 16, in versetti dal 13 al 23. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai Suoi discepoli, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro, ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Allora Gesù cominciò a spiegare ai Suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli iscrivi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a reimproverarlo, dicendo, Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli voltando si disse a Pietro, Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E' un brano molto ricco quello che abbiamo ascoltato, e vediamo come da una parte ci sia una profonda intuizione dell'identità di Gesù. Pietro a un certo punto sperimenta questa ricchezza, Tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo, e resta riempito da questa rivelazione, sorpreso, la consegna agli altri discepoli. Ma allo stesso tempo, vediamo che Gesù dice due cose, investe Pietro di questa autorità, data da questa rivelazione, ma allo stesso tempo gli ordina di non dire ad alcuno che egli è il Cristo, gli pone sotto silenzio. E ancora comincia invece a spiegare la sua passione, a raccontare ciò che dovrà succedere. E di fronte a questo Pietro non capisce più niente. Questo non ti accadrà mai. E Gesù deve silenziare di nuovo questa voce, Torna dietro a me, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. C'è un modo di pensare che è secondo Dio. E Pietro non ce l'ha ancora, non gli appartiene ancora, ha un'intuizione profonda, ma ancora deve comprendere cosa sia il modo con cui Dio realizza le cose. Ed ecco che serve questo tempo, questo silenzio, per poter arrivare a non dire cose sbagliate. Cioè che partono bene, ma non arrivano a segno, perché alla fine tornano a parlare a partire dalla propria comprensione. Pietro comincia con una bella intuizione, ma finisce con un cattivo pensiero. Vogliamo invece chiedere al Signore di aiutarci a avere quella pazienza di fare un'esperienza profonda di Lui. Questo ci porterà a esserne davvero testimoni. Grazie a tutti.